Samuel Stern numero 20, la casa dei sospiri, crudele e dal finale dolce amaro. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo. Continuiamo a parlare di Samuel Stern, il nostro libraio di Edimburgo preferito. Sudetta dello stesso Gianmarco Fumasoli nel suo editoriale, dal prossimo numero pare che comincerà un ciclo di storie che ci porterà fino al numero 24, quindi 21, 22, 23, 24, sono quattro numeri che concluderanno una sorta di finale di stagione di questo secondo anno di vita di Samuel Stern. Eppure c'è già qualche strizzata d'occhio anche in questo numero, proprio mentre padre Duncan e Samuel Stern camminano chiacchierando in uno dei loro tantissimi discorsi di questo numero, c'è un monito, la fine è vicina ragazzi, la fine è vicina. Ma ora basta parlare del futuro, parliamo del presente, parliamo anche del passato di questi poveri anziani che vivono nella casa dei sospiri. La casa dei sospiri, soggetto e sceneggiatura di Luca Blengino, lo stesso autore di Valer, è uno dei numeri più acclamati di questa serie e che quindi è tornato in pompa magna a trattare un argomento molto importante, un argomento che io stesso amo particolarmente, un argomento che io amo trattare particolarmente spesso, appena ho l'occasione sul mio canale, un argomento molto controverso per come lo hanno trattato. I disegni invece sono di Niccolò Palmisciano, che poi elogierò in un video dedicato sulla mia Instagram TV perché qua ci sono davvero dei disegni fantastici, delle caratterizzazioni delle persone anziane che ho apprezzato davvero tanto. Partiamo con una piccola nota dolente, ma giusto una stupidata dal punto di vista editoriale, la casa dei sospiri. Sa un po' di... già sentito, perché nel numero 12 avevamo la casa delle farfalle, francamente avrei quasi preferito il posto dei sospiri, come citato nello stesso... nello stesso numero da uno dei personaggi, quindi sarebbe stato più preciso, anche se il posto dei sospiri vi rendo conto che come titolo può far stranire un attimino. Ma a parte questa superflua postilla, addentriamoci nella storia. È inutile girarci intorno, lo si capisce dalla copertina, lo si capisce dalle prime pagine, la casa dei sospiri parla degli anziani, parla degli anziani malati, degli anziani che non sono più autosufficienti, fisicamente, mentalmente, entrambi i casi, parla degli hospice, ovvero quelle case, quelle RSA, quelle strutture, che ospitano appunto questi simpatici, o a volte anche meno simpatici, vecchiettini, che si allietano a vicenda, e si fanno allietare dagli infermieri, dalle infermiere, e vivono la loro vita, gli ultimi anni della loro vita, che possono essere pochi, ma possono essere anche tantissimi, in una di queste case di cura. Case di cura, case di riposo, si chiamano, hospice, chiamatele come volete. Sta di fatto che, nella realtà, ancora prima che nella fantasia letteraria di Samuel Stern, questi posti possono essere davvero molto accoglienti, perché c'è da dirlo, forse il messaggio in questo numero non passa tanto. Molti hospice sono davvero molto accoglienti, ma ci sono anche gli hospice molto poco accoglienti, gli hospice dell'orrore, gli hospice che possono far ispirare un fumetto horror, e questo è il caso della casa dei sospiri. Però, ci tengo a precisarlo, nonostante noi comunque sentiamo queste orribili notizie sui giornali, angeli della morte che lavorano negli hospice, o comunque personale, sanitario, parasanitario, che tratta male questi vecchietti, telecamere che vengono installate per cogliere sul fatto gli infermieri, gli os, gli asa, che trattano male i degenti, sono notizie all'ordine del giorno. All'ordine del giorno fortunatamente no, ma se ne sono sentite di tutti i colori. Ma vi ricordo sempre che per quanto scalpore faccia, per quanta indignazione faccia, una notizia di questo tipo è tale fin tanto che esce dalla norma, esce dalla realtà. Questo significa che la norma si spera. Sono le case di cura invece dove le persone vengono tenute bene, tenute da conto, tenute, spero, sul palmo di una mano, perché la vita umana è davvero importante, non si possono ridurre le persone anziane a un lavoro. Una persona anziana va trattata con la passione per occuparsi dell'altro ed il problema a volte, come anche nella casa dei sospiri, è proprio questo, ovvero il fatto che molte persone fanno questo lavoro non avendola più la passione o non avendola mai avuta nell'occuparsi dell'altro. Giustificabile quando sono tantissimi anni che lo si fa e si inizia a sentirsi un po' svuotati perché se ne vede passare talmente tante di cotte e di crude sotto gli occhi, sotto il naso di quello che può succedere con le persone, con la vita umana, con le persone anziane che dopo un po' si crea una corazza tale che si diventa insensibili, si diventa vuoti come la Sally del Dylan Dog di cui abbiamo parlato un paio di giorni fa, quando le emozioni sono talmente forti si diventa vuoti e si agisce con indifferenza anche quando il tuo lavoro consiste nell'occuparsi di un essere umano. Purtroppo ci sono anche persone che già dall'inizio non sono portate per farlo, questo lavoro, ma lo fanno comunque perché non hanno altri lavori. Vediamo ancora una volta Samuel Stern che si infiltra nel luogo dove deve andare a praticare un esorcismo, un espediente che avevamo già visto in altri numeri, ma che francamente a me piace un casino. Cioè, questo espediente dovrebbero ufficializzarlo dato che lo stanno usando spesso. Cioè, il fatto che Samuel Stern nonostante sia un libraio e nel tempo libero aiuti padre Duncan nei suoi esorcismi, a volte può sfuggire il fatto che ma come è un libraio? Come fa a fare anche queste cose? Beh, può farlo nel suo tempo da volontario. Poi c'è anche da dire che il suo datore di lavoro, Angus Derrylang, sa benissimo la mansione di Samuel e quindi può tranquillamente diciamo, chiudere un occhio se si assenta per due mesi dalla libreria per occuparsi di un lavoro sotto copertura. Questo espediente mi piace davvero tanto, mi piacerebbe che appunto lo ufficializzassero come, non lo so, una sorta di... diventasse una sorta di agente per l'arcidiocesi, anche se è chiaro che il carattere stesso di Samuel Stern non rifiuterebbe di lavorare per qualcuno, di lavorare per un ente come l'arcidiocesi. Fatto sta che noi vediamo il nostro carissimo Samuel Stern in prima persona vivere l'esperienza di un infermiere, un infermiere volontario che si occupa di questi carissimi ammalati, di questi tenerissimi vecchietti. Sono disegnati davvero con una tenerezza incredibile, mi sono davvero piaciuti soprattutto la prima vecchietta che, vabbè, si sa che è un fumetto dell'orrore, parte con un incidente, chiamiamolo così, subito all'inizio, questa tenera vecchietta ancora prima di cadere, diciamo, dalle scale, ve lo dico perché sono le prime pagine, la tristezza che mi ha dato la vecchietta non tanto in quello che è successo, anche se comunque fa molto male vedere un innocente, un anziano, un indifeso fare una brutta fine, mi ha ferito ancora di più sapere come gli mancasse il suo gli mancasse il suo figlio, ecco, non voglio anticipare troppo, e di come un po' si dimenticava di suo figlio ma un po' voleva apposta dimenticare l'assenza di suo figlio, mi ha fatto una tenerezza assurda. Il vecchietto che racconta le barzellette sembra pescato proprio da Alan Ford, ha un'espressività fantastica, e la vecchietta che ride sempre, che se non sbaglio si chiama la Miss Hopper, anche lei mi ha fatto una tenerezza assoluta, tant'è che tutte le volte che vedevo un nuovo vecchietto tenero avevo la paura folle che qualcuno gli potesse far del male, invece no, fortunatamente non accade con tutti, però, come ho detto prima, non tutti i vecchietti sono tenere, abbiamo un paio di vecchietti molto sospetti che potrebbero nascondere dentro di sé un'ombra, come sapete nel mondo di Samuel Starr un'ombra è un evento che ha spezzato diciamo l'anima per fare un esempio alla Harry Potter e che può creare dentro di sé un demone, un piccolo demone che cresce, cresce, cresce finché non si manifesta, quindi i demoni non vengono dall'inferno ma nascono da dentro l'essere umano, poi, sì, possono finire all'inferno e tornare ma nascono dall'essere umano. Ci sono stati un paio di eventi catalizzatori che hanno attirato l'attenzione di Samuel, padre Duncan e dell'Arcidiocesi che hanno fatto in modo che Samuel vada a ispezionare questo Site Place Hospice ovvero il punto di osservazione, ospizio punto di osservazione che viene puntualmente vandalizzato diventando Sick Hospice ovvero la casa dei sospiri. Uno dei due incidenti è quello che vediamo all'inizio della storia, l'altro incidente è accaduto un po' di tempo prima e riguarda un vecchietto che attualmente non è più nell'hospice perché è all'ospedale in stato catatonico però appunto per far andare avanti la storia il vecchietto torna all'hospice appunto in questo stato totalmente appunto catatonico in cui non risponde agli stimoli ma con un espediente Samuel Stern riesce comunque a carpire qualcosa da lui e si inizia a capire che il demone esiste ma non è necessariamente in questo vecchietto questo vecchietto che si scopre essere stato un autentico stronzo da giovane da padre anche quindi non perché un vecchietto sia tenero adesso ci fa tenerezza adesso non significa che sia stata una buona persona da giovane assolutamente potrebbe essere stata una persona orribile viceversa un vecchietto che magari è scorbutico e odioso come vedremo più avanti avremo un altro esempio a rovescio non significa che sia stata una persona orribile in gioventù può significare che ha qualcosa dentro di sé che si è spezzato o banalmente può avere una malattia come quella della demenza senile quella dell'alzheimer che può dare questo genere di reazioni può farti può farti diventare aggressivo anche con le persone che ami ma non c'è colpa in queste persone la colpa è della malattia bisogna sapere anche distinguere tra l'anziano e la malattia che lo sta in un certo senso controllando è ovvio che a livello emotivo non è facile capire questa cosa e qui abbiamo la storia di Liz e della sua madre adottiva Margaret Margaret ha proprio questi scatti di ira ma anche di odio verso questa sua figliastra che altri non è che la figlia di sua sorella sarebbe sua nipote che le ha cresciuto come una figlia e ha questi scatti di rabbia di odio verso questa persona che è sempre stata un pochino diciamo vessata a quanto a quanto sembra ha un carattere molto introverso molto timido molto diciamo succube anche degli eventi che sono attorno a lei ciò nonostante fa tutto quello che può per sostenere per per dimostrare l'amore verso la propria madre adottiva Margaret a differenza appunto del figlio del signor Anderson che invece proprio perché il signor Anderson era uno stronzo da giovane il figlio si limita a pagargli la retta ma per il resto non ne vuole più sapere di lui mentre Liz oltre a pagare la retta oltre a evitare di pagare l'affitto per pagare la retta a sua madre va anche a trovarla tutti i giorni si piglia questi insulti tutti i giorni nonostante continui continua ad amarla continua ad andarla a trovare Samuel Stern ciò nonostante non riesce a capire da dove arrivi questo demone in questo posto perché continua a avere sensazioni da ogni dove se lui fosse una radio così come ha detto se lui fosse una radio sarebbe quel posto sarebbe una continua interferenza non riesce davvero a percepire chi delle persone al loro interno ha un demone potrebbe essere il signor Anderson potrebbe essere l'odioso gestore dell'hospice che è il Dr. Sandor che è stato disegnato nella maniera più viscida possibile così bellissimo con gli occhi di ghiaccio queste labbra pronunciate un volto diametralmente opposto ai volti rugosi emaciati pieni di vita di esperienze vissute di cicatrici interiori dei nostri carissimi vecchietti qua abbiamo invece un volto liscio splendido tutto leccato il male in persona un lucifer de no altri se così vogliamo definirlo il male potrebbe essere benissimo dentro di lui potrebbe essere in qualunque vecchietto odioso che è stato in passato e invece no pare che sia proprio dentro la povera margaret ma anche lì ho avuto un dubbio non capivo se l'autore volesse far intendere che la malattia dell'alzheimer che aveva la povera margaret non fosse davvero l'alzheimer ma fosse un demone un ombra che si celava all'interno di margaret o se l'alzheimer stesso nel mondo di samuel sterna fosse un demone e questo mi ha riportato alla mente il mio uno dei miei fumetti del color fest preferito di dylan dog la lettera bianca vi metto qua sopra e qua in descrizione la mia recensione così sapete di cosa sto parlando dove appunto l'alzheimer era visto come un demone che dylan doveva affrontare mi sarebbe molto piaciuto leggerlo da questo punto di vista ma samuel nonostante comunque racconti in maniera metaforica esattamente come fa dylan quello che è la vita non manca comunque di essere molto materiale cioè i demoni esistono davvero non sono semplicemente una metafora quindi qua margaret oltre ad avere l'alzheimer ha un ombra un ombra che gli si è creata per un evento nel passato che è legato appunto alla sua maternità o se vogliamo alla sua mancata maternità e proprio di maternità qua si parla perché un demone incastrato in un corpo di una fragile anziana che sa che è condannato all'inferno dei demoni sa che è condannato a legione perché non riesce a manifestarsi a uscire da questo corpo ospite ormai alla fine dei suoi anni fa tutto quello che vorrebbe fare qualunque essere vivente quando sa di stare per morire lasciare un segno lasciare un lascito vuole lasciare un figlio ma i demoni si sa non possono riprodursi non possono creare dei figli in un certo senso ma possono creare altre ombre nelle altre persone possono spezzare la fragile anima delle persone con cui vengono a contatto e qua è proprio il caso di Margaret e Litz Margaret la madre Litz la figlia il demone dentro Margaret la madre il demone dentro Litz la figlia Litz ha un demone all'interno hanno entrambi un demone all'interno questo modo in cui hanno trattato ancora una volta una sfaccettatura del tema della possessione demoniaca all'interno di Samuel Stern mi è piaciuto tantissimo il fatto che riescano ogni volta a trovare questo espediente narrativo per narrare la vita mi è piaciuto un sacco Samuel Stern riesce comunque in un certo senso a affrontare i cattivi perché comunque c'è sempre una parte d'azione una parte in cui si scazzotta diciamo anche metaforicamente e la cosa bella è che nell'epilogo di questa scazzottata riusciamo a vedere la vera Margaret priva di questo demone lucida forse se vogliamo quindi priva anche dell'Alzheimer per una frazione di secondo la cui unica priorità la cui unica preoccupazione era la sua tanto amata figlioletta adottiva Litz quindi vediamo che la persona anziana che tanto vessava Litz quando era in questa condizione di malattia se vogliamo chiamarla malattia demone chiamatela come volete leggetelo come volete questo fumetto priva di questa malattia il suo amore incondizionato verso la figlia era tuttora presente questa è stata penso la parte più bella di questo fumetto di questo numero la parte invece un po' più crudele dolce dolce amara oltre a alla parte iniziale dove gettono una vecchiettina dalle scale la parte più dolce amara è il finale perché io l'ho capito il messaggio dell'autore ho capito il messaggio che voleva dare l'autore però si è data più enfasi alla preoccupazione di Samuel Stern che non alla risoluzione finale che Samuel Stern suggerisce di adottare per evitare che succeda mi spiego il problema l'interferenza che sentiva Samuel Stern era data dal fatto che ogni anziano per tutta la vita che ha avuto per tutta la vita che ha vissuto piena di appunto di delusioni di anima spezzata di cose che gli sono capitate banalmente nella vita che si sono accumulate in tutti questi anni tutti questi anziani e non solo quelli di questo hospice ma potenzialmente tutti gli anziani possono avere un'ombra all'interno hanno un'ombra all'interno quindi potrebbero avere un piccolo demone all'interno questa cosa sconvolge padre Duncan che non capisce come questa umanità che è arrivata a questo punto anche della medicina per poter allungare la vita delle persone sia riuscita ad allungare la vita delle persone senza mantenerle la qualità della vita di queste persone e ha una reazione quasi eccessiva dire ma come mi stai dicendo che siamo circondati da persone che potrebbero essere cattive siamo circondati da persone che comunque soffrono nella loro condizione di anziana cosa mi stai dicendo che la soluzione sarebbe appunto che fossero morti prima in realtà Samuel non voleva assolutamente dire questo però ripeto ci si mette di più a spiegare questa cosa cioè che tutti gli anziani hanno potenzialmente un'ombra all'interno che può essere anche vero ma ci si mette molto meno tempo a spiegare la soluzione che suggerisce Samuel ovvero l'unica soluzione è amarli queste persone non vanno trattate con discendenza non vanno trattate men che meno con rabbia con odio con con insofferenza perché comunque sono persone non bisogna trattarle con sufficienza basta che non scoccino no bisogna amarle l'unico modo davvero non solo nel fumetto ma anche nella vita reale per trattare con una persona anziana per fare in modo che non sviluppi un male ma non intendo una malattia ma anche il male della solitudine come mostrano c'è il vecchietto con il telecomando che finge di telefonare i parenti perché non lo chiama mai nessuno il male della solitudine il vero male dell'anziano il male di sentirsi solo un'altra cosa che si vede anche nella lettera bianca dove appunto oltre alla malattia il personaggio ha anche il fatto di non essere visitato dai parenti quindi c'è una malattia nella malattia gli anziani non vanno lasciati soli anzi proprio perché è un momento molto importante della loro vita in cui sono fragili in cui hanno bisogno di qualcuno l'unica soluzione perché non si crei appunto quest'ombra questo demone prendetela come metafora è amarli e mi piace che si sia giunti a questa conclusione in questo fumetto ma ammetto che è stato un po' fortino arrivarci con questo percorso perché abbiamo visto davvero davvero tanto tanto male prima di arrivare alla soluzione finale sarebbe stato bello per quanto sono stato felice che abbiano speso più di una misera paginetta hanno speso diverse pagine finali per arrivare a un epilogo mi sarebbe piaciuta ancora una paginetta in più in cui non lo so avrebbero mostrato qualche infermiere che si occupa in modo amorevole o qualche parente che si occupa in modo amorevole di questi vecchietti magari in altri hospice o anche nello stesso sight place e vedere magari che il demone l'ombra che c'è all'interno si sfalda si affievolisce questo avrebbe dato un po' di speranza in più a un numero che dà comunque speranza ma proprio nello sprint finale però diciamo che nel complesso mi è piaciuto molto ragazzi non l'ho fatto apposta non l'ho fatto apposta so che quando io ho recensito The Father che purtroppo l'hanno visto in pochi quindi ve lo metto qua in descrizione ve lo metto anche qua nelle schede ho detto mandatemi qualunque cosa che parla di anziani che parla di alzheimer che parla di malattia che a me piace parlarne piace recensirlo lo noterete anche dal minutaggio e si vede che Gianmarco Fumasoli mi ha sentito e ha fatto uscire la casa dei sospiri quindi non l'ho fatto apposta ma ho parlato ancora di questo tema e non l'ho fatto apposta ma stasera c'è una live che ho chiamato Dylan Dog Mater Morbi per ovvie ragioni perché non sapevo che uscisse questo questo tema ma dove parleremo appunto di malattia parleremo anche di malattia nelle persone anziane quindi parleremo del numero mater morbi parleremo del numero la lettera bianca ma ovviamente ci sarà anche un accenno a Samuel Stern la casa dei sospiri quindi seguiteci ci sarò io se tutto va bene ci sarà anche Luca DJ ci dovrebbe essere anche il curo ci sarà ospite una psicologa quindi seguiteci stasera alle 8.30 in questa live in cui parleremo appunto di questo argomento grazie per avermi seguito fino a qui so che il video sarà lungo ma se avete resistito fino a qui siete dei guerrieri io con l'inchin e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti